...è bravissima ma abbiamo vinto! ...è servizio! ...è appena rilasciato da Degasso, è la scuola di Degasso, è la scuola di Degasso in questa città, l'abbiamo difesa noi, vengono i piedi noi, hanno accettato la maschera tutti, il pezzone di Degasso che ha rapperto l'erreggio! ...è stato difficile, è stato il nostro voto, è stato il campionato, Mi permette, mi chiedete per me a casa, 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 a casa.